un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo ecco siamo nella clausura primo piano il piano della cella di padre pio la cella numero 1 che tutti i pellegrini possono visitare ma c'è anche qui la cella numero 5 ma qui anche oggi per ricordare un confratello di padre pio padre raffaele da sant'elia pianisi padre raffaele da sant'elia pianisi è stato guardiano del convento di san giovanni rotondo dal 28 agosto del 28 al 26 agosto del 41 ma vogliamo parlarvi di qualcosa di particolare di significativo oltre al fatto che lui era un grande amico di padre pio confessore e nell'ultimo periodo della sua esistenza terrena come ci ricorda questa questa icona questo questo questi brevi cenni riguardanti la sua la sua vita è stato anche una persona un frate che ha notato dei fatti particolarmente importanti come ad esempio l'interrogatorio sull'origine delle stimmate infatti in questo piccolo puscoletto che è stato realizzato da padre gerardo di flumeri vice postulatore della causa di canonizzazione di padre pio da pietrilcina e vogliamo ricordare anche lui quest'oggi lui ci racconta riprendendo questo fatto di padre raffaele da sant'elia pianisi che pare raffaele finita la guerra lui tornò qui in convento era il 1919 lui rientra a foggia nell'agosto del 1919 chiede permesso al provinciale di fare un salto qui a san giovanni rotondo e poter incontrare il suo caro compagno padre pio da pietrilcina che aveva saputo che aveva ricevuto le stimmate lui dice mi fermai qui per quattro giorni grande era il concorso di forestieri e in quei giorni erano là anche il vescovo di lecce monsignor costa zitore l'arciprete di pietrilcina che conobbi proprio in quell'occasione per la prima volta padre pio dopo tanti anni di prova racconta padre raffaele era un frate che lo accolse con grande entusiasmo fraternità in quell'occasione scrive padre raffaele potei notare effettivamente quello che raccontavano e quello che leggevo anche sui giornali tutto rispondeva a verità qui c'era tantissima gente la sera però del 19 quindi siamo al 19 settembre del 1919 feci la confessione generale con lui in coro mentre la comunità era andata a cena dopo tanti anni di guerra di sofferenza lui mi rincuorò e mi promise della sua assistenza spirituale e fu proprio così per tutta la sua vita ero grande scrive dopo otto anni di vita militare dovevo continuare gli studi teologici per prepararmi all'ordinazione sacerdotale dormivo in una cella angusta racconta padre raffaele siamo in questo corridoio quindi stiamo ritornando proprio in quell'occasione in quei tempi quasi di fronte alla cella numero 5 infatti noi ci troviamo proprio di fronte alla cella numero 5 che è stata la prima cella di padre pio quindi nel 1919 era la sua cella maria e tutta la ragione della mia speranza lui dice che dormiva di fronte ma quasi di fronte se di fronte c'è il sacerdone possiamo immaginare che questa è la cella dove dormiva padre raffaele il saggio teme e schiva il male lo storto va avanti e non ha paura racconta che verso mezzanotte mi levo dal letto quasi spaventato forse era il caldo il corridoio era nell'oscurità rotta solo dalla luce incerta di un lumicino a petrolio mentre stavo sull'uscio quindi qui mentre stavo sull'uscio quasi per uscire ecco che passa padre pio che stava tornando dal coro tutto luminoso padre pio aveva gesù bambino tra le braccia andava a passi lenti mormorava piccole preghiere e passò proprio davanti a me racconta tutto raggiante di luce non si accorse della mia presenza solo alcuni anni dopo scrive padre raffaele da sant'elia pianisi in questa sua testimonianza sono venuto a sapere che il 20 di settembre ricorreva il primo anniversario delle sue stimmate